Sì, sono Patrizia, sono molto contenta di lavorare nel CERDEC del piccolo rifugio di Vittorio perché con la maestra d'arte Paola Palmano facciamo sempre delle cose nuove. Quest'anno, per il Bosco Incantato, le vie dell'acqua, abbiamo fatto quattro patine. La maestra d'arte ha deciso che era meglio fare una storia, una fiaba, e così Diego adesso ve la racconta. Sono quattro pappi, mirtillina, fragolina, gioia, peccina. La fattura è la pappa mirtillina, che fa una magigliano camponesca che cambia i gusti dei frutti, e poi però vuole fare il progetto in maniera per la paura che fa mamma, le last baby. Abbiamo fatto quattro palloni con la carta pesta, il collo, i vestiti coloratissimi. Poi le ali, un lavoro molto delicato, molto importante, realizzato da noi. Tutto l'una diversa dall'altra, coloratissime, accompagnate i vestiti. Per sapere come finisce questa pavola, venite a leggerla il 25 aprile a Cidò. Vi aspettiamo! Ciao!